Forti emozioni al meeting del gruppo Cassa Centrale, prima di tutto persone, svoltosi presso il Lattia Arena di Trento con la partecipazione di 11 dipendenti della BCC Montepruno. L'incontro riservato ai dipendenti del gruppo ha rappresentato un importante momento di condivisione e celebrazione dei successi raggiunti nei primi 5 anni dalla costituzione del gruppo. Per la prima volta all'evento hanno preso parte congiuntamente le banche di credito cooperativo, le casse rurali e le Raiffeisen Kassen affiliate insieme alle società del gruppo industriale per un totale di oltre 12.000 persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell'organizzazione. Dalla BCC Montepruno presenti 11 dipendenti capitanati dalla direttore generale Michele Albanese e dalla vice direttore Cono Federico che hanno seguito con grande interesse l'evento. Il loro coinvolgimento attivo testimonia l'importanza che l'iniziativa ha rivestito nel rafforzare il senso di appartenenza all'interno del gruppo e nel condividere i valori cooperativi che lo contraddistinguono. Dall'istituto di credito precisano che uno dei momenti più apprezzati ed emozionanti della giornata è stata all'intervista all'amministratore delegato Sandro Bolognesi che ha parlato dei numerosi successi del gruppo condividendo aneddoti personali che hanno reso il suo intervento particolarmente motivazionale. L'evento ha offerto a tutti i partecipanti l'opportunità di riflettere sui risultati conseguiti rafforzando al contempo la visione comune per il futuro del gruppo Cassa Centrale che con questo incontro ha voluto celebrare il percorso compiuto e stimolare nuove idee e progetti per il futuro consapevole che il patrimonio più importante sono le persone che vi lavorano con impegno e dedizione. Nel corso dell'evento infine sono stati premiati i finalisti di un contest organizzato per l'occasione che verteva su tre temi persone, futuro e territorio al quali hanno partecipato 35 BCC con 80 progetti.